Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. E' semplice. Dovremmo delegificare probabilmente troppe norme, troppe cose. Questo riguarda molti settori in Italia. Ma adesso stiamo parlando della giustizia, siamo in coerenza. A Carlo va tutto il mio apprezzamento, la mia stima, perché ha dimostrato nella sua carriera da magistrato a procuratore a Venezia, per cui lo dico. Una cosa gliela posso chiedere, sindaco. Che cosa pensa sulla strada di questa riforma che possa succedere? Riuscirà a portarla a casa? Guardi, secondo me non deve succedere che ci siano le barricate uno contro l'altro, perché se qualcuno pensa di essere sotto attacco, giustamente si difende e difende la sua dignità professionale. Non credo che questo sia l'obiettivo. L'obiettivo è quello davvero di fare la riforma. La riforma si fa insieme. Adesso lui ha fatto delle dichiarazioni, metterà in piedi degli atti, vedremo, leggeremo, io sono un pignolo dannato. Secondo me dobbiamo tornare alla sana anche voglia di vedere gli altri. Ci sono dei temi sulla giustizia, parlo della sicurezza sociale, quella urbana, che vediamo tutti, ubriachi, gente che fa quello che vuole. Noi abbiamo un caso da noi a Mestre, in via Piave, che siamo proprio tutti insieme, profetto, questori, procura, tutti a battagliare, però non riusciamo a trovare la soluzione perché questa gente non la riusciamo proprio a tenere dentro, perché alcuni sono delinquenziali, proprio delinquenti seriali di microcriminalità. Allora io suggerisco invece una roba che è depenalizzata, le celle di sicurezza, via la storia del carcere, però se tu ti ubriachi e molesti le persone, ti fai una notte in cella, una notte, due notti e poi mi dai 500 euro di cauzione per andare via. Come fanno in Croazia, in America? Le celle le abbiamo fatte noi, resteranno un giorno in più. Cioè voglio dire, devi imparare, non so, se c'è un minore, chiamo il genitore e se lo viene a prendere. Io ho fatto le celle, le chiudiamo dietro le spalle a un ragazzino di 14 anni che picchia la gente a casa per gioco, chiudi la porta dietro, diventa di nuovo torno a bambino e il genitore si assume le sue responsabilità e viene a prenderselo e si rende conto che invece che andare in palestra magari sta qualche ora in più con suo figlio. Guardate che il recupero della persona che sbaglia è fondamentale, è proprio questa la natura della riparazione di cui anche la riforma Cartabia parlava. Ma dobbiamo farla, non solo dichiararla in televisione, questo è il punto. Allora, io considerando la storica contrapposizione, a parte tra politica e giustizia, ma anche tra forze politiche su questi temi sensibilissimi, ovviamente poi come tutti sono molto curioso del leader che seguirà alle parole di Nordio, che credo in questo momento stia parlando peraltro alla Camera, stia replicando. Continua, perché allora scusate se dico questa cosa importante, Nordio ieri ha spiegato al Parlamento quello che sta nel suo programma di legislatura. Dei cinque anni diciamo. Poi ci erano sei di domande e stamattina sta rispondendo alle domande. Allora, vado per le onore.